salve a tutti ragazzi bentornati su go games oggi andremo a vedere dove trovare un boss segreto ci troviamo a liurnia la grazia che prendiamo come punto di riferimento è questa qui rovine del lago cadute e postandoci qui esattamente ci sarà un nemico travestito da un altro nemico vi faccio vedere Ed eccolo qui ci dropperà una lacrima di larva. Questo non è l'unico boss sotto mentite spoglie che possiamo trovare all'interno dell'interregno ma è uno di quelli. Se avete bisogno di lacrime di larva potete venire qui e farlo fuori. Per questo video è tutto grazie mille per averci seguito e alla prossima.